Secondo te chi è il re o la regina dell'ambientazione letteraria? Guarda, a me sono piaciuti tantissimo degli autori così diversi tra loro che fare una classifica non... No, perché è un po'... so sempre quelle che ho situazioni un po' antipatiche, come dire vuoi bene più a mamma o a papà oppure Beatles o Rolling Stones, non si fanno queste domande. No, però ti potrei dire anche le mille e una notte, sono dei racconti inanellati, uno agganciato all'altro, uno più bello dell'altro, dove l'ambientazione è molto importante. E comunque ecco per esempio una maestra proprio grandissima di ambientazione perché ti fa capire immediatamente con chi ha a che fare nei suoi racconti che sono... Ha scritto anche i romanzi chiaramente, ma ha scritto tantissimi racconti Agatha Christie sicuramente. I racconti di Agatha Christie sono concentrato di informazioni date a un passant al lettore che le coglie senza aver l'aria di coglierle, ma quella è una grandissima abilità. Cioè Agatha Christie è un architetto, è proprio un ingegnere del racconto e della scrittura. Gli scrittori sono un po' ingegneri, costruiscono qualcosa che si deve reggere, qualcosa che ha a che fare con i vuoti e con i pieni. La base deve essere solida e andando sopra via via bisogna alleggerire esattamente come si costruisce un palazzo. Farmacia Letteraria, un podcast della Scuola di Scrittura Genius. Se avete una domanda mandate un vocale 351-877-9461 Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.